hello good morning oggi è domenica è uno degli ultimi giorni di febbraio quindi caricherò questo video il primo di marzo immagino prima di tutto come al solito vi dico cosa sto indossando per la prima volta sto indossando la mia unica tinta labbra mac che è slipper orchid ed è questa qua ai tempi l'avevo provato al negozio mi avevano detto i miei amici che mi stava bene un po un pugno sull'occhio perché veramente molto forte però mi piace e quindi sto indossando questa non indosso molto spesso i miei rossetti quelli più costosi perché di solito vado al lavoro ora lo so che bisognerebbe usare le proprie cose sempre non importa dove vai però onestamente ho 80 rossetti non ho voglia di mettere quelli più costosi per andare al lavoro e quindi quando sono libera al fine settimana provo un po a usare ciò che posso dunque cosa è successo a febbraio niente il nuovo shop dove lavoro come vi dicevo già a gennaio continua a piacermi sono veramente molto felice il mio umore continua ad essere decente e per il resto non è successo niente ho prenotato le vacanze e scendo il 15 marzo a catania perché sarò la madrina di battesimo di mio nipote che carino e quindi sarò la sua madrina e adesso io non sono una che ama molto lo shopping lo so se voi mi seguite da da anni o dai tempi del blog io prima ero una fanatica dello shopping adesso non lo sopporto e quindi in realtà dovrò andare a comprare qualcosa e già la sola idea di andare a provare a vedere mi urta per fortuna alla fine è una cosa in famiglia in più con mia sorella ho abbastanza confidenza per fregarmene dell'eleganza quindi comprerò qualcosa di molto semplice metterò scarpe basse di sicuro perché io sono contraria ai tacchi dato che non li uso ci sto scomoda non voglio non voglio camminare come un dinosauro e sono alta 1,70 non mi interessa comunque essere più alta o slanciata non mi interessa e quindi comprerò qualcosa un po a casaccio vedremo allora quindi no in realtà non è successo niente né ho qualcosa di nuovo tipo appunto film musica niente di che e ho fatto pochi acquisti tutti beauty che adesso vi mostro solamente solamente cioè quattro acquisti allora prima di tutto ho comprato cioè sono stata la tk maxi avevano come si dice riassortito avevano riassortito lo stand beauty con cose nuove che non avevo visto prima e anche marchi che non avevo visto prima quindi ne ho approfittato e ho comprato allora questa l'ho presa per mia sorella però io l'ho comprata uguale dello stesso identico colore solo che l'ho già aperta e usata se voi vi ricordate un anno fa avevo fatto il video meno di un anno fa avevo fatto il video delle due wet brush che avevo comprato su amazon facendo anche un complain ad amazon sempre che avevo parlato nel video e questa volta li ho viste da appunto da tk max solamente a 6 pound c'era anche il modello normale quello che io ho già il prezzo normale sui 10 pound su amazon e da boots si trovano anche a 11 12 pound per 6 pound ho detto anche se ne ho due rotonde questa qua è fatta apposta per essere usata con i capelli bagnati ho sotto la doccia quindi l'ho presa è molto grande spazzola bene ancora non l'ho usata sotto la doccia però io mi trovo bene con queste wet brush e in più la mia tangle teaser come vi disse già un anno fa ha i chiodini che oramai si sono un po spiegazzati non so si sono un po piegati continuo ad usarla sotto la doccia ma al posto di comprarne una nuova dato che con le wet brush mi trovo bene ho pensato perché non comprare una terza wet brush e quindi l'ho presa per 6 pound poi ho preso per 3 pound al posto di 5 pound già credo di avervi spiegato che cosa tk max è una sorta di grande magazzino dove hanno diversi brand diversi brand e sempre di nuovi con prezzi inferiori quindi ho preso per 3 pound al posto di 5 pound una crema mani della ios dicono che siano naturali paraben free gluten free no animal products bla 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 di questa mi piace il packaging non mi interessava molto avere la crema mani anche perché ne ho svariate però ho detto vabbè per 3 pound dai la prendo la metto in borsa è carina e morbida e con il burro cacao ios mi ero trovata bene l'ho finito tutto avevo quello là al mango se non avessi tanti altri burro cacao da usare ne comprerei un altro quindi forse in futuro chi lo sa vedremo e poi ho preso la famosissima famosissima maschera tony molly premetto di essere veramente contraria alle maschere con tutti i ragazzi che io conosco con conosco e con cui avevo fatto amicizia quelli che lavoravano da lash che lavorano da lash quando io lavoravo in liverpool street station mi avevano regalato svariate delle loro maschere naturali quelle per il viso quelle nel barattolo che tu spalmi scrabbi eccetera e io con la mia pelle non vedo mai la differenza con nessun tipo di maschera queste qua sono stra famose le maschere tony molly non so neanche quando la userò perché già impiastricciarmi la faccia con tutte queste robe non è roba mia ma costava solo 2 pound quindi io buttiamo i soldi costava 2 pound c'erano diverse c'era per esempio quella rinfrescante emolliente bla 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 uso spesso il bla 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 lo so e io ho preso quella al vino rosso che mi fa schifo io odio il vino rosso odio l'odore del vino però questa è per i pori e io alla fine ho tutti i miei poracci schifosi quindi non ho di sicuro bisogno di idratare ma se può fare qualcosa per non lo so rimpolpare la mia pelle grazie se no ho buttato 2 pound e questi sono le tre cose che ho comprato da tk max dopodiché ho solamente un'altra cosa che è il mio gioiello e la mia amica natasha mi ha regalato per natale io non ricevo mai regali da quando vivo fuori praticamente ho smesso in realtà mia mamma ogni tanto mi manda qualcosa non soldi nel senso tipo quest'anno mi ha regalato sharp e cose simili ma di solito non ricevo regali la mia amica la mia amica natasha mi ha regalato un buono di self regis e allora siamo andate insieme dopo più di un mese cioè solamente una settimana fa siamo andate insieme perché io non avevo molta pazienza e ho comprato i'm sorry about that una paletta di ombretti ma ne ho venduta un'altra che avevo di urban decay quindi sappiate che non sono un'accumulatrice seriale di make up anche se potrebbe sembrare così soprattutto per i rossetti ho preso una palette di zoeva o zoeva come la volete chiamare questa è la rose golden allora io già ho un'altra palette di zoeva che è la cocoa blend che cosa sta succedendo con questo sole e questa luce comunque ho la cocoa blend di ragazzi di zoeva e mi trovo molto bene gli ombretti sono stupendi gli ombretti sono stupendi e quindi ho deciso di prendere questa si sto girando un video per youtube arrivo è la mia conquilina e la mia amica viviana comunque questa è la palette e io con gli ombretti di zoeva mi sono sempre trovata benissimo questi sono tutti non tutti 10 ombretti di cui tre sono matt cioè questo grigio questo specie di nerino marronone e questo beige e tutti gli altri sono shimmer dovrei far vedere la cocoa blend ma sta sotto lo specchio quindi non succederà mai comunque ecco gli ombretti di zoeva io mi sono sempre trovata benissimo tanto che appunto ho venduto una palette di urban decay per per sostituirla con con questa fine dei miei acquisti in tutto ciò era rimasto qualche soldo io ho aggiunto qualche altro soldo e ho regalato alla mia amica un rossetto nyx che le è piaciuto molto e che sta usando molto e quindi sono tanto felice di questo e basta quindi nella realtà dei fatti non credo ci sia molto altro da dire quest'anno io compirò 30 anni e ho prenotato già le vacanze anche per luglio solo che non penso di partire in realtà quindi non ho idea di cosa succederà in realtà basta sono passati meno di 10 minuti ma non penso di avere molto altro da dire c'è stato san valentino che non ho festeggiato c'è stato il mio nomastico che non ho festeggiato non che io abbia mai festeggiato però in italia mi facevano dei regali i miei familiari adesso no e in realtà credo basta non c'è molto altro da dire il mio letto è veramente ordinatissimo come che sono felice e quindi niente mi sa che io ovviamente come sapete non faccio mai editing dei video per cui ciò che succede che non vi farò mai vedere per esempio l'outfit che userò per il battesimo né io posto foto online tranne su snapchat probabilmente su snapchat vedrete qualcosa di più seguitemi di forse dovrei aprire un dibattito invece contro le instagram stories che ne pensate io odio instagram stories instagram l'ho sempre usato per seguire persone per le loro foto e quindi seguire le loro storie mi urta perché non mi interessa vedere la loro vita e quindi molte storie le ho bloccate ma il senso è perché le persone che usavano snapchat hanno deciso di passare a instagram stories loro dicono che è più comodo secondo me no perché non mi carica mai bene video ed in più è veramente un tradimento cioè instagram copiano spudoratamente snapchat e adesso anche whatsapp ha fatto lo stesso e voi branchi di pecoracce decidete effettivamente di lasciare snapchat per andare su instagram stories perché è più comodo non è più comodo il sito è peggiore perché instagram è fatto per le foto stop ed in più siete dei traditori quindi se volete mi trovate su snapchat se non usate snapchat perché siete solo su instagram mi dispiace per voi e basta quindi forse sto muovendo tutto non ne sono certa comunque ancora non sono andata dal dentista io l'unica cosa che riesco a vedere quando giro questi video sono i miei denti che mi fanno schifo quindi ancora non sono andata dal dentista per informarmi per l'apparecchio ma giuro solennemente che lo farò e basta quindi io sto andando oggi a fare un brunch al the breakfast club a canary wharf e il breakfast club è una catena di un ristorante tipo un posto dove fanno brunch pancakes english breakfast e tutte queste robe qua e ce ne sono svariati a londra e il cibo è buonissimo io ho provato praticamente sei sette cose e tutte erano buonissime quindi ve lo consiglio se passate di qua e basta quindi non vi ho raccontato niente se non il mio shopping vi saluto buona domenica anno buona domenica lo vedrete buona settimana buona domenica buona domenica buona domenica